Buonasera a tutti e quindi benvenuti alla prima puntata dell'edizione autunnale di Virtual Studium. Iniziamo un po' con le presentazioni. Io sono Giovanna Maria Dimitri e sono un docente a contratto del DIISM, Dipartimento Ingegneria e Informazione e Scienze Matematiche dell'Università di Siena. E sono molto felice stasera di essere qui con Benedetta Tondi, ricercatrice del DIISM. Ciao a tutti, buonasera. E che vi saluta e stiamo felici appunto di essere sulla piattaforma Twitch, proprio come nella scorsa edizione primaverile. Con la stessa filosofia di Virtual Studium della scorsa edizione primaverile, cioè quella di presentarvi dei temi di ricerca che vengono svolti all'interno dell'università in maniera divulgativa o leggerissima, che è una keyword che vedete sulla pagina di Virtual Studium. e Virtual Studium infatti si propone come campagna di divulgazione scientifica organizzata e supportata all'Università di Siena e con la collaborazione della spin-off Belonging, che fornisce strumenti e servizi di comunicazione e divulgazione scientifica e realizza contenuti e prodotti multimediali per varie enti di ricerca. Veniamo comunque subito a noi, lascio un attimo la parola alla mia collega Benedetta che può presentarsi brevemente prima di passare all'introduzione della tematica che presenteremo. Sì, salve a tutti, io sono Benedetta Tondi, anch'io ricercatrice al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e niente, possiamo dire di cosa parliamo stasera? Sì, allora, stasera parleremo delle fake news e in particolar modo ci occuperemo, Benedetta vi presenterà una bella carrellata di falsi fotografici, del ruolo anche che falsi, in particolar modo legati alle immagini, occupano nella società e diciamo nella nostra vita di tutti i giorni, facendo vedere come effettivamente siano pervasivi nella nostra quotidianità e come, diciamo, tecniche avanzate e informatiche possano aiutarci a identificarle e a scoprirli. Quindi, se avete domande, non esitate a porcele nella box che trovate. Qua sotto risponderemo a fine puntata o durante la puntata, quando la regia comunque ci comunica via via le domande, noi cercheremo di rispondere. e quindi, Benedetta, direi che possiamo iniziare. Certo, sì. Comincio subito con il condividervi una presentazione. Eccoci qua, quindi condivido lo schermo intero. Potete confermarmi che si vede tutto? Sì. Oh, c'è un bug, ne? Quanto pare, adesso abbiamo un altro problema. Non lo so perché, appena metto modalità presentazione, mi parte questa cosa qua. Cinque minuti fa funzionava. Che facciamo? Lo vedete in modalità così? Sì. Ho capito, quindi lasciamo così perché mi sembra problematica lo schermo intero. Non so perché. Ok. Perfetto, quindi parliamo di fake media, quindi di fatto immagini e video, più in generale, falsi. Noi nella modernità siamo abituati a pensare che questi falsi, questi fake media, siano una cosa dei nostri giorni, proprio dei nostri tempi. In realtà non è così, le immagini non sono mai stati innocenti e quindi fin dall'antichità si possono trovare degli esempi di falsi fotografici. Qui vi ho messo questo esempio, che è questo. Questo sulla sinistra è Abraham Lincoln e questa è la foto presidenziale, quando appunto venne eletto presidente. In realtà questa foto era un falso perché solo la testa era quella di Abraham Lincoln, il corpo era il corpo di un altro politico. fecero questa operazione allora, molto probabilmente perché Abraham Lincoln non era così di bell'aspetto, diciamo, no. E quindi pensarono bene di migliorare la sua apparenza. Altro esempio che si può trovare nell'antichità. Questo è Lenin a un comizio durante la rivoluzione russa. La foto vera è quella che vedete a sinistra. C'era questa persona che vedete all'interno del cerchietto rosso. E questa persona poi successivamente era stata rimossa dalla foto e venne poi distribuita perché si trattava di un ufficiale caduto in disgrazia e quindi non doveva apparire nei documenti dell'epoca. Un altro esempio, questo è un esempio che forse appunto vi piacerà ancora di più. Questo è il duce Mussolini e questa era una foto, quella che vedete a sinistra, che venne distribuita all'epoca della propaganda fascista. Cioè questo Mussolini con questa cosa eroica con la spada sguainata a cavallo. Ma chi conosceva Mussolini, Mussolini non sapeva andare a cavallo. Quindi infatti la foto vera era questa di destra dove c'era questa persona che reggeva il cavallo. Però di fatto poi questa persona venne rimossa dalla foto proprio al fine di far sembrare la foto più bella, più che esprimesse una maggiore forza e quindi fosse più adatta a una foto di propaganda fascista. Questo per dire che appunto i fotomontaggi, i falsi fotografici hanno una lunga storia. Questi falsi qua poi erano falsi d'autore nel senso che richiedevano veramente tanta arte. Cioè c'erano esperti fotografici che dovevano mettersi lì sulla foto stampata ad andare a togliere o a rimuovere quello che volevano rimuovere o aggiungere quello che volevano aggiungere. Quindi non era affatto banale. Quindi le immagini hanno perso la loro innocenza tanto tempo fa. Figuriamoci ora, ora, insomma ora c'è anche di più, ma insomma adesso che c'è Photoshop. Photoshop ci permette di creare dei falsi fotografici molto credibili, abbastanza agevolmente. Questo è un esempio che viene dal gossip, che vedete Brad Pitt e Angelina Jolie. Quindi, allora, non stavano insieme, questo giornale scandalistico voleva far passare il messaggio che stavano insieme. Questa foto non è vera, in realtà poi stavano insieme, questo è vero. Però questa foto non è una foto autentica perché Brad Pitt e Angelina Jolie non si trovavano in questa posizione, nello stesso posto. Come si fa a vedere questo? In questo caso abbastanza semplicemente perché basta guardare l'illuminazione che non è consistente. Quindi questo è un falso, vabbè, possiamo dire che ce ne frega il giusto, sinché si tratta di gossip. Chiaramente qualche volta però l'obiettivo di questi falsi è un po' più serio e un po' più preoccupante, perché alla fine i falsi possono essere utilizzati anche per scopi un po' non proprio così, diciamo, da gossip. Per esempio questa era una foto, quella che vedete qui sulla sinistra, una foto relativa appunto a distribuita dal governo iraniano e c'erano questi bei missili sparati in aria per esaltare la forza, diciamo, del governo iraniano, dell'esercito iraniano. Vabbè, foto bella. C'è qualcosa con il mouse, comunque, vabbè, ho un problema con il mouse, a questo punto non è risorto il problema. che avevamo visto prima. Ok, vabbè, comunque, per dirvi, questa foto non è vera, ok? Perché la foto vera è quella che vedete qui a destra in basso. In realtà, quindi, uno dei missili non era partito. Però, siccome non era una bella foto, far vedere, insomma, una foto dove si vedeva che un missile non era partito, voglio dire, vogliamo esaltare la forza dell'esercito iraniano, andiamo a risolvere questo piccolo problema, aggiungendoci il missile che di fatto non era partito. Altra foto, questo è un altro esempio, in questo caso, beh, questo è più sottile, questa è una protesta in Tunisia, una protesta contro la dittatura e l'estremismo. Questa manifestazione, in realtà, non era stata una manifestazione di così grosse proporzioni, ma un giornale distribuì questa foto per far sembrare, appunto, un evento di grosse proporzioni e cosa fece? Presse la foto originale e andò a replicare la folla. Quindi, se si va a vedere, con degli strumenti di analisi, ovviamente, questo a farlo a occhio non è molto semplice, però si può vedere che ci sono parti della folla che sono state replicate, proprio per lanciare il messaggio, appunto, ai lettori, guardate, guardate che manifestazione bella, bella, importante. Quindi, in questo caso, la manipolazione ha, come capirete, uno scopo ben più importante, ok? Quindi, ci iniziamo a preoccupare di queste cose, perché tramite una manipolazione vogliamo far passare un messaggio irrispetto a un altro che sarebbe il messaggio corretto. Questa è l'idea. Per non parlare poi del web, il web è pieno di falsificazioni, di immagini false. Qui c'è un esempio di quello che è, non so se sapete, di questo uragano che Sandy, che nel 2012 colpì gli Stati Uniti. Ecco, se scrivete sul web, uragano Sandy usa, vi escono fuori una marea di immagini false, quindi, come sapete, uno che non lo sa, no, vede queste immagini e pensa che l'uragano Sandy poi abbia fatto tutto ciò. In realtà non è vera. Per esempio, la foto che vedete qui in basso, quest'onda anomala che colpisce la Statua della Libertà, vabbè, questa, per chi conosce il film, è l'onda del film The Day After Tomorrow, per dire, ecco. Ma è veramente, il web è pieno di queste cose. Un altro esempio, anche nella scienza si possono trovare dei falsi. E qui magari vi può dire qualcosa meglio Giovanna, che lavora proprio in ambito biomedico. Sì, anche nell'ambito delle immagini biomediche, come vi sta facendo vedere Benedetta in questa slide, si possono trovare casi in cui i falsi, diciamo, anche in quest'ambito, vengono utilizzati. Come nel caso di quella immagine sui polmoni, sulle radiografie dei polmoni, vedete, è lo stesso individuo con la radiografia, però in un caso è stata apportata una modifica alla radiografia e presenta la presenza di un tumore. E questo falso è stato fatto a scopi, diciamo, criminali in un certo senso, quindi per cercare di ingannare l'assicurazione sanitaria, è stata fatta questa, questo falso nella radiografia del polmone. Quindi anche in questi casi, anche in ambito biomedico, se ne possono trovare vari esempi. Vero Benedetta. Certo, e questo solo per parlare di, senza appunto ancora essere arrivati a quello che è la rivoluzione di oggi, che è l'intelligenza artificiale. Quindi non solo fotomontaggi. Esatto. Qualcuno, utilizzando l'intelligenza artificiale, è possibile fare veramente l'impensabile. In questa slide vedete delle persone. Eh, bene, queste persone non esistono. Sono persone che sono generate dalle macchine, quindi dall'intelligenza artificiale, da quello che si chiama machine learning. Questo ha stravolto un po' il mondo della ricerca e non solo, anche le nostre case, no? Abbiamo le macchine che si guidano da sole, abbiamo, chi di voi forse qualcuno ce l'ha, Alexa che ci controlla quello che facciamo in casa. Quindi per dire, l'intelligenza artificiale ha rivoluzionato tutto, e anche l'ambito dei falsi fotografici. Tra l'altro, qui, sempre qui ci può dire qualcosa anche, probabilmente anche Giovanna, perché anche in ambito biomedico penso l'intelligenza artificiale abbia, sia utilizzata, giusto? Certo, assolutamente, anche in ambito biomedico l'intelligenza artificiale trova moltissime applicazioni nelle immagini. La potete trovare applicata per cercare di risolvere task, diciamo, importanti come la cosiddetta segmentazione, cioè localizzazione di determinate parti anatomiche, oppure anche in task simili a quello che vi sta facendo vedere, Benedetta, su questa slide, cioè per la creazione di dataset sintetici, in cui si generano immagini sempre biomediche, ma generate sinteticamente, artificialmente, da determinati tipi di reti neurali, che poi possono servire a vari scopi, anche per motivi più tecnici, come l'allenamento delle reti neurali stesse, o altri tipi di task che comunque vengono affrontati con queste tecniche. Mi piaceva farvi vedere a voi, ora anche per continuare su questa cosa di intelligenza artificiale, dei falsi fatti con l'intelligenza artificiale, perché sono veramente incredibili. Per esempio, mi piace farvi vedere questo video di Obama, ma non so se l'avete visto, magari qualcuno di voi sì. Ecco, Obama che dice alcune cose. Ora se mi funziona il mouse, magari ce la facciamo. Ripartito da capo. Sentite anche l'audio? No, perché? Il poltrono e sopà c'è la collezione Magnificat. L'abbiamo preparato ma è passato il tempo e probabilmente non... Ma che c'è tempo solo fino a domenica? Poi Finificat, poltrono e sopà, autentica qualità. abbiamo siamo pieni di pubblicità non ce la facciamo scusate un secondo provo un secondo a a togliere non so perché non parte proviamo un ultimo tentativo però se no non lo faccio vedere perché allora vediamo ce l'hai? mi fa un piacere perché io ci devo avere un virus nel computer non riesco a muovere il mouse puoi condividerlo sì? sì lo stavo prendendo posso condividere? perfetto anche dalla regia mi dicono ok quindi provo a condividere io vedete allora ok vedete il mio schermo? sì vedete bianco? allora forse devo togliere lo schermo intero? ok allora lo lascio ecco riuscite a vedere? è un po' scato forse la connessione io lo vedo a scato ecco comunque ecco se ecco quindi Obama sta dicendo delle cose che in realtà non l'ha mai detto perché sono parole di Jordan Peele che vedete a destra è solo che non ce l'ha detto lui e non era praticamente possibile capire che in realtà non l'è stato detto lui se non fosse per il contenuto perché ora forse non ci abbiamo non l'abbiamo fatto in tempo ma a un certo punto Obama ha detto che il presidente Trump era un idiota assoluto quindi diciamo che queste cose non ce le aspettiamo da un personaggio come Obama ecco questo è giusto un esempio magari potete provare voi a casa scrivere su internet Obama come you won't believe what Obama says e lo vedete sicuramente meglio di come ve l'abbiamo fatto vedere noi quindi per dire che sono strumenti veramente potentissimi io avevo un altro esempio ma adesso non facciamo tempo a farveli vedere tutti che è veramente fatto molto bene e vi fa vedere la potenza di questi strumenti quindi sono potenti strumenti potenti e quindi noi dobbiamo imparare a imparare a difenderci contro le manipolazioni fatti appunto a partire anche da questi strumenti ecco questo era per dire questa cosa qua quindi niente questa era la panoramica ecco poi ne possiamo ora discutere con Giovanna no di quelli che sono poi le problematiche relative a tutto ciò e quanto ciò è importante certo certo con questa prima diciamo introduzione carrellata che tu ci hai fatto vedere Benedetta potremmo quasi dire che stiamo di fronte a una sorta di più generazioni di falsi fotografici no quindi diciamo che come si diceva se ne può individuare addirittura tre generazioni la prima generazione che è quella proprio della della dell'analogico no della fotografia stampata eh dove si andava eh dove si andava a manipolare il mezzo erano cose da pannaggio di solo esperti solo esperti fotografici potevano manipolare queste immagini poi l'era di Photoshop il digitale va bene e lì non dico chiunque ma quasi basta avere un po' di competenze di 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 utilizzo di software e si può veramente creare dei falsi credibili mh abbastanza civolmente però un po' bisogna saperci fare terza generazione direi quella dell'intelligenza artificiale per cui chiunque con un click può generare dei video veramente appunto credibilissimi non so se di voi qualcuno ha usato qualcuna di queste app no che permettono di sostituire i volti i vostri volti a a quelli di attori famosi nelle clip dei film queste app hanno oggigiorno funzionano anche piuttosto bene e sono appunto basate sull'intelligenza artificiale terza generazione di falsi che si diceva certo certo un po' come quella app anche che andava di moda qualche anno fa in cui invecchiava il volto della persona che si equadrava con la videocamera inserivi la tua foto e ti vedevi tra 30 40 50 anni insomma a seconda dell'età certo sì 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 quella era un app che andava molto di moda ecco e poi ci hai fatto vedere diciamo come possano eh questi diciamo falsi possano essere utilizzati a diversi scopi quindi propagandistici diffamatori ma anche proprio a scopi eh criminali veri e propri certo è questo il pericolo e questo anche perché poi noi io anche anche te no eh eh lavoriamo a queste cose perché ci pagano anche per questo perché perché effettivamente eh queste queste questi strumenti possono essere usati anche proprio per diffamazione comunque a scopi criminali per esempio mi viene in mente che il primo esempio di di fake si parla di di fake questi diciamo falsi generati dall'intervento dell'intelligenza artificiale e il primo esempio fu proprio quello di un'attrice eh famosa che il cui volto fu fu messo appunto in quel dall'interno di un video pornografio quindi all'attrice di porno gli viene sostituito il volto e viene messo quello di un'attrice famosa è una cosa del genere insomma è abbastanza eh compromettente no ora se l'attrice è molto molto famosa se ne può fregare però una 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 ecco magari una un'attrice alle prime armi eh magari può può rovinarsi la carriera per questo giusto per dire ecco la facilità con cui si usano questi strumenti di fatto la facilità d'uso fa sì che poi siano così diffusi e quindi crea anche proprio un problema un problema un problema grosso ecco bisogna difendersi ecco certo è allarmante e soprattutto è anche eh diciamo interessante anche da un punto di vista di ricerca eh capire e investigare eh come mai eh alla fine ci caschiamo un po' tutti no? In queste fake news cioè eh vediamo una foto vediamo un video e ci crediamo il che lo rende ancora più pericoloso da un certo punto di vista. questo è un aspetto molto importante questo dici te Giovanna eh è veramente importante perché quello infatti un aspetto su cui magari approfittiamo anche per questo di questo eh spazio per per far riflettere un po' anche i telespettatori no? Eh perché effettivamente bisogna anche cominciare a sviluppare un senso critico nei confronti di quello che che vediamo ok? Senso critico che no che non abbiamo. la la prima slide della presentazione diceva basta vedere per credere di fatto è così nel senso che inconsciamente crediamo sempre a quello che vediamo e questa è una cosa proprio del genere umano e non a caso soprattutto oggi eh soprattutto oggi dove le informazioni appunto viaggiano attraverso i social quindi noi le nostre fonti di informazione sono spesso dei contenuti condivisi 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 con quindi fonti assolutamente non attendibili quindi di fatto questo aspetto è un aspetto molto molto importante e qui c'è anche da dire una cosa molto interessante che sono stati fatti anche degli esperimenti eh psicocognitivi qui quindi per dire di quello di cui stiamo parlando è una cosa seria che eh hanno evidenziato una cosa molto interessante hanno preso un campione di persone che era stato all'Euro Disney e gli avevano gli avevano gli avevano gli avevano fatto vedere delle foto e dove 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 facevano vedere queste queste persone insieme a a a un personaggio Buzz Buzz Bunny o come si chiamano Taz un personaggio dei Looney Tunes e queste persone tante di queste hanno raccontato hanno detto sì io mi ricordo questo fatto ora all'Euro Disney i Looney Tunes non ci sono perché i Looney Tunes non sono del quindi di fatto queste persone quindi di fatto queste persone hanno creduto a quello che hanno visto così tanto da non ricordarsi perché eh cioè loro loro quella foto non era mai stata scattata quindi di fatto le immagini sono così potenti da come dire indurre anche una una falsa memoria addirittura ecco se vogliamo e qui si potrebbe dire anche certo certo cioè le immagini per esempio parlano la testa le emozioni no questa è una cosa inconscia e lo sanno bene i pubblicitari i pubblicitari vi fa ci fanno vedere tante immagini a forte impatto perché sanno che così ci influenzano nel profondo proprio nel come dire nel nel non nazionale qui si si potrebbe parlare verore perché anche qui non so se lo sai se Giovanna quel fatto che è successo qualche giorno fa quello di Facebook proprio una decina di giorni fa l'avevo sentito parlare c'è stata questa vicenda però dicevi sì 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 una 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 ex dipendente mi sembra di Facebook ha accusato Facebook di come dire di avere proprio un heap di persone di di persone che lavorano per Facebook e il cui compito è quello di eh proprio come dire spingere promuovere deliberatamente contenuti che hanno a che fare con sentimenti di rabbia odio eh questo tipo di contenuti qua perché perché fanno più click quindi questo questo è è è una cosa molto 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 rilevante ecco ci deve far pensare molto ci deve far pensare molto questo certo e qui si può fare altri esempi diciamo certo sì sì cioè assumere degli haters professionisti a costo di aumentare il numero di click il numero di interazioni quindi chiaramente diciamo siamo siamo portati a a essere più coinvolti da immagini a forte impatto da crudeltà tragedia lo stesso le pubblicità sono molto a forte impatto no se ci pensiamo perché per vendere un prodotto non ci fanno vedere una una pagina bianca uno schermo bianco con una scritta eh perché perché non 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 ha lo stesso impatto perché quando andiamo al supermercato poi noi lo compriamo se lo abbiamo visto scritto eh invece se lo abbiamo visto abbiamo visto il detersivo la sua potenza la macchia che si stacca dal tessuto quella ci ha fatto c'è entrata dentro no quell'immagine di quella macchia che si stacca dal tessuto con tanta facilità e quindi noi andiamo e compriamo quella marca di detersivo per intenderci ecco questo è un altro esempio certo certo quindi sì è interessantissimo anche da questo punto di vista più diciamo neurocognitivo eh l'impressione che le immagini lasciano su di noi sui nostri ricordi addirittura da indurre una falsa memoria e quindi eh il ruolo che anche queste fake foto possono possono avere è veramente eh interessantissimo e quindi diciamo parlando di questo forse possiamo anche entrare un po' più nel dettaglio nella descrizione delle tecniche che utilizziamo da un punto di vista informatico sia per rilevare i falsi tradizionali che quelli più di nuova generazione diciamo sì sì magari qui vi faccio vedere brevementissimamente qualcosa visto anche anche l'orario provo magari a ripresentare veramente vi faccio vedere giusto due cose perché deve essere ricerca leggerissima quindi parlare delle tecniche e rendere la cosa leggerissima manteniamo la promessa manteniamo la promessa manteniamola sì vedete sono ritornata alla presentazione di prima riuscite a vedere sì ok perfetto quindi niente per esempio una tecnica giusto per dirvi proprio due parole una tecnica comune che veniva utilizzata fino a poco tempo fa fino alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale era per esempio eh la tecnica di ehm delle ombre quindi questo per esempio vi faccio vedere questo è lo sbarco sulla luna lo sbarco sulla luna è stato a lungo sospettato di essere un complotto no? Eh la teoria del complotto lunare e qui di fatto è stata fatta però in laboratorio un'attenta analisi di tutte le ombre e queste attenta analisi ha rivelato che queste immagini sono vere non possono essere false perché non sarebbe stato possibile riprodurre con una tale precisione ed esattezza tutte le ombre in questo modo ecco ombre ma anche si può anche altri altri fattori no? Luce incidente eh altre cose che possono essere tracce geometriche tutto tutto questo può aiutarci eh per esempio questo è un esempio luce incidente qui abbiamo questi due militari con questo e questa persona qua e questa persona qua sulla sinistra che è stata aggiunta successivamente è qui la luce un po' come nell'esempio di Brad Pitt e Angelina Jolie proviene da direzioni diverse tantissime di queste di queste tecniche da geometriche ma non solo anche tecniche statistiche quindi vanno a vedere le statistiche delle delle immagini e queste tecniche statistiche vengono utilizzate più che altro eh nella nella oggigiorno nella nella rivelazione dei dei fake di quelli che sono i falsi generati dall'intelligenza artificiale perché lì ragionamenti geometrici vanno un po' a farsi benedire non funzionano più di tanto funzionavano un po' con i primi falsi proprio le 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 cose contestuali andare a andare a vedere un po' le 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 Questo è un lavoro che abbiamo fatto noi nel nostro gruppo di ricerca che consente di rivelare un falso, in realtà non proprio questi di ultima generazione, ma questo è un lavoro di due o tre anni fa, andando a vedere quelle che sono le relazioni tra le bande di colore che vanno a comporre un'immagine, perché un'immagine è composta da bande di colore. Ecco, nel caso dei falsi generati dall'intelligenza artificiale, le relazioni tra queste bande di colore che compongono l'immagine non sono consistenti, non sono le stesse di quelle che abbiamo nel caso di immagini reali. Questo giusto per dirvi due cose anche sulle tecniche, però non è una cosa troppo leggerissima scendere nel dettaglio più di così, se siete interessati ovviamente nessun problema a rispondere alle vostre domande. Io penserei che, che dici Giovanna, vuoi aggiungere qualcosa o che diciamo? Ma direi sì, andiamo sulle domande. Procediamo con le domande, direi. Sì, vai. Entriamo dalla regia. Eh, in realtà sono programmi, non c'è un programma che lo fa, sarebbero troppo fortunati, ecco, se ci fosse, diciamo che vanno sviluppate tecniche, poi vanno scritte in linguaggi di programmazioni e poi testate in laboratorio. Quindi usiamo linguaggi di programmazioni che ci consensano di sviluppare tecniche di analisi dell'immagine, ecco, quindi Matlab, Toolbox, oppure Python, oggi giorno va di moda Python con il Deep Learning e il Machine Learning. Quindi questi ambienti di sviluppo dove noi andiamo appunto, quella comunità che fa la rivelazione dei falsi, va appunto a sviluppare dei software, ecco. Ok, sentiamo dalla regia se ci sono altre domande. Ok. Dunque, se non vi sono altre domande, Benedetta, direi, diciamo, che possiamo concludere un po' su questo. Quindi, le tecniche vi ha fatto vedere Benedetta, che appunto, come diceva anche adesso, si sono poi un po' unite e archite con le tecniche dell'intelligenza artificiale e del Deep Learning ultimamente, giusto? Certo, e quindi diciamo anche una, se vogliamo anche una sensibilizzazione, diciamo, da domani guardate, guardate nelle immagini, se ci può essere qualcosa di anomalo, ecco, prima di credere. Guardate un sospetto le foto, guardate un sospetto le foto che, diciamo, condividete o ricondividete perché potrebbe sempre nascondersi un falso e considerate anche il rischio di condividere le vostre foto che potrebbero essere poi falsificate da qualche malintenzionato. Lì, se vogliamo fare un'altra puntata, perché i dati personali sono la cosa più preziosa del prossimo millennio, quindi avere quantità infinite di dati personali farebbe una persona come noi ricca, sfondata, perché i dati personali sono una cosa che le grandi dizi, le grandi aziende chiedono, vogliono e cercano in ogni modo. Tutte le volte accettiamo un messaggio relativo alla privacy, diamo le nostre informazioni e è lì che a loro gli viene un guadagno infinito perché le nostre informazioni sono preziosissime per poi guidare quello che è il mercato. Certo, e in più la raccolta di grandi quantità di dati è fondamentale per queste tecniche più recenti di deep learning e machine learning, che sono di grandi quantità di dati. Certo, una peculiarità di queste tecniche è proprio questa, è proprio questa di necessitare tante quantità di dati, questo sì, quindi c'è anche questo aspetto, senza dubbio. Perfetto, allora, se dalla regia non ci dicono che ci sono altre domande, sentiamo un attimo. Siamo state chiarissime, siamo state chiarissime. Chiarissime, chiarissime, allora, dunque, bene, quindi se non ci sono altri dubbi vi salutiamo. Questa puntata sarà disponibile tra poco sul canale YouTube dell'Ateneo, quindi nel caso vi fosse farsi qualche passaggio, vogliate, diciamo, rivederla, potete recuperarla da lì. Quindi, Benedetta, direi di salutare, di augurare a tutti una buona serata e un buon fine settimana a questo punto. Direi di sì. Grazie a tutti per averci seguito, speriamo che vi sia piaciuto. Buona serata, ciao ciao. Benissimo e buona serata. Arrivederci a tutti. Grazie. 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 Grazie.